Nella giornata dedicata al martirio di San Giovanni Battista, il gremio dei contadini ha rinnovato la sua festa piccola. Con il nome di San Giovanni della Nebbia, in sassarese di Laneura, è il patrono del sodalizio. Nella chiesa di Santa Mera di Betel, il gremio ha la sua cappella. Qui è custodito il candeliere che partecipa alla farada del 14 agosto. Ieri, in serata, è stata celebrata la funzione eucaristica, guidata dal padre guardiano dei frati minori conventuali di Santa Maria, Salvatore Sanna. Sono intervenuti i gremianti e i portatori, mentre l'accompagnamento musicale del corteo è stato curato dal corpo bandistico Luigi Canepa. Lo scorso giugno, in occasione della ricorrenza della natività di San Giovanni Battista, il gremio aveva invece celebrato la propria festa maggiore, con la cerimonia dell'intregu e la processione. Il gremio dei contadini è nato da una scissione con i Massai, avvenuta nel 1803. E' stato riammesso alla farada nel 1937, quando gli fu dato in consegna il candeliere del disciolto gremio dei pastori. La bandiera è di colore amaranto, vi è riprodotto San Giovanni Battista della Nebbia, presente anche sul fusto del candeliere, che risale al 1700, per lunghi anni bianco e poi riportato all'antico verde chiaro. Grazie.